Siamo qua per stare vicino a Marina e Valerio, per chiedere giustizia, perché non c'è stata fino adesso, e che paghino. Perché Marco è il figlio di tutti, oggi siamo pochi perché non sapevamo se venire o non venire, c'è tutto il mondo che grida Marco giustizia, essendo tutte mamme siamo vicino a Marina, perché non è giusto. Naturalmente siamo qui per Marco dall'inizio alla fine, noi siamo un gruppo di sostenitori, sosteniamo questa causa perché ce l'abbiamo nel cuore, ma anche perché conosciamo Marina, Valerio e soprattutto io conoscevo Marco, e quindi dall'inizio alla fine noi saremo sempre qui. Diciamo un ribaltamento di tutto quello che c'è stato fino adesso, quindi una giusta giustizia che condanni chi ha permesso che Marco venisse ucciso due volte. Non scordiamo mai che Marco non è morto per un colpo di pistola, Marco è morto perché non è stato soccorso in tempo.